Il mondo del wedding in crisi nera per il coronavirus, tanti infatti gli sposi che a causa dell'emergenza sanitaria hanno deciso di rinviare il fatidico sì con inevitabili conseguenze nefaste per l'intero settore. L'industria del wedding raccoglie infatti sotto la sua enorme ala decine di operatori, da ristoratori a fotografi, da albergatori a fiorai, quest'anno tutti alle prese con un anno zero. Il primo impatto è stato veramente brutto del tipo e ora che si fa, poi invece cosa fai? Prendi e pensi e cominci a dire ok il mondo va avanti, io devo anticipare quello che sarà. Rimandate a causa del covid anche molte nozze da favola, la Toscana e con lei anche Arezzo sono sempre più scelte infatti da coppie straniere per il fatidico sì, il tutto ovviamente adesso slittato. Quando vengono qui c'è un sistema di vita molto 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 affascinante, ogni cultura cerca un qualcosa di diverso, l'indiano cerca lo sfarzo quindi vuole un certo tipo di impegno, l'inglese o l'americano cerca l'olivo, cerca l'agriturismo particolare, ecco perché noi diversifichiamo anche le cose. Ad Arezzo nella splendida cornice di Badia Campoleone si sarebbe dovuta svolgere anche la manifestazione Wedding Showcase, una due giorni dedicata al mondo del wedding, rivolta soprattutto a sposi stranieri. Organizziamo, cerchiamo le aziende che sono a disposizione del wedding planner, li rimettiamo insieme e tutto a costo zero viene organizzata questa festa. Purtroppo il 26 di febbraio quando era organizzato il quarto showcase in una scornice meravigliosa che è Badia Campoleone, con delle persone veramente importanti, ci sono più di 30 aziende ogni volta che facciamo uno showcase, aziende di un certo livello. Eravamo pronti, non ce la siamo sentita di farlo perché i segnali erano veramente brutti, poi di lì a poco sarebbero state chiuse tutto, quindi è inutile sprecare cartucce. L'abbiamo tenuta lì in caldo. La faremo perché noi già stiamo pensando al quinto showcase, perché il nostro compito è quello di facilitare wedding planner, perché noi non siamo wedding planner ma vogliamo promuovere il nostro territorio per lavorare. La manifestazione è stata rimandata per l'emergenza sanitaria ma oggi è pronta più che mai a tornare. Pensare e mettermi a disposizione e cercare tutti quelli che sono in questo mondo qui di dire ok ragazzi abbiamo avuto un bello scossone ma bisogna andare avanti e veramente ce ne tante di queste aziende che sono pronte e che vogliono andare avanti. Ce la faremo.